Sapevi che anche un'isola vulcanica come Lanzarote regala vini di altissima qualità? Questi non temono il confronto con i più rinomati vini italiani e francesi. Il paesaggio lunare di Lanzarote, con i suoi terreni vulcanici e il clima arido, potrebbe sembrare un ambiente inospitale per la viticoltura. Eppure, è proprio in questo contesto unico che nascono vini bianchi minerali, rossi fruttati e dolci aromatici che stupiscono per la loro complessità e il loro carattere deciso. Ti porteremo in un viaggio attraverso i vigneti dell'isola di Lanzarote, dove scoprirai tutti i segreti della viticoltura in questo ambiente unico. Scoprirai come i viticoltori locali utilizzano tecniche innovative per coltivare la vite e produrre vini di alta qualità, in un ambiente quasi ostile. Scoprirai come i viticoltori. Scoprirai come i viticoltori Scoprirai come i viticoltori.